Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci indica la via per vincere il mondo e far trionfare l'amore di Dio, rimanendo innestati in colui che il Padre ha inviato per la salvezza dell'umanità. Gesù, il Figlio del Dio vivente, ha assolto la volontà del Padre per essere innalzato sulla croce, per morire e innalzare tutti alla sua gloria. Tutti coloro che hanno accolto la sua missione e lo hanno riconosciuto come l'unico Salvatore. Ecco il vero sacrificio che rende ancora più vivo il significato della libertà data all'uomo, di accogliere o non accogliere la salvezza per mezzo del Figlio dell'uomo. Riconoscendosi nel legno della croce, quale segno di purificazione e salvezza si può veramente scendere e comprendere la profondità del sacrificio di Cristo. Dare il giusto valore di santità al mezzo che ha portato nel cuore di tutti la speranza. La possibilità di conquistare la vita eterna in pienezza che in Cristo è certezza. Il serpente invece è il segno dell'inganno e del peccato che allontana da Dio. Gesù mai si è fatto serpente, come altri insegnano. Gesù lo ha vinto, il serpente, e così dobbiamo fare ora tutti noi. Cristo è la nostra roccia. Chi vive in Cristo, con Cristo e per Cristo, tramuta la speranza in certezza, purché ci si lasci plasmare e illuminare dalla luce che è Cristo. Credere in Lui, credere nel suo nome che è salvezza, unica salvezza. Operare per mezzo della luce, opere buone e sante. Praticare il bene, scartando e allontanando tutto ciò che è peccato e ci allontana da Dio. Facendo tutto ciò, si rimane nella luce e si diviene figli di colui che è in luce, di colui che ha ripugnanza delle tenebre, dei menzogneri, degli operatori di iniquità, di coloro che ingannando il cuore dei semplici si ergono a paladini ed opositari della legge di Dio. La legge di un mondo corrotto che ha scartato Cristo e la sua vita, Cristo e il suo amore, Cristo e la sua missione. Tutti costoro vivono nelle tenebre e hanno paura della verità, perché la verità rende visibili i propri misfatti e peccati, svelando le opere e le dottrine ingannevoli che servono soltanto per ingannare e sviare dalla vera fede i figli di Dio, accondiscendendo con tutto ciò che è puro umanesimo. Scartando la pietra angolare tutto crolla. Non si può sorreggere una casa nel momento in cui viene meno il muro portante. Ecco perché una casa divenuta spelonca di ladri è crollata e sempre più sprofonda nell'abisso. Hanno eliminato la pietra che tutto sorregge, edificando una nuova dottrina su un terreno fragile e peccaminoso. Ecco la nascita, la fondazione di questa chiesa, fondata sulla roccia, portatrice della vera luce, che per tempo e nel tempo il Padre aveva preparato per combattere con le armi della santità ogni assalto alla vera fede, al nome di Gesù, alla verità, affinché nessuno potesse scoprire troppo tardi l'inganno. Ecco la richiesta fatta da Gesù a Maria Giuseppina Norcia, quella di far conoscere Gesù, il vero volto di Gesù, uomo Dio, per poterlo amare, riconoscere e viverlo. I figli di questa madre chiesa quindi devono uniformarsi al suo pensiero, al suo linguaggio, per incarnare i suoi insegnamenti e sentimenti, come la scrittura dice. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di serbo e divenendo simile agli uomini. Spogliò se stesso e non annientò se stesso, come altri insegnano, avendo cambiato le parole della Sacra Scrittura. Gesù si è immolato, spogliandosi della sua divinità per rivestirci del divino, ma non si è annientato e nessuno potrà annientarlo. Solo imitando Gesù si potrà essere veritieri e santi e trasmettere a tutti la gioia, ma soprattutto la voglia di conoscere profondamente il padrone della vita, che è tornato per amore, non per giudicare il mondo, ma per salvarlo per mezzo di Lui. San Paolo, nella lettera ai filippesi poc'anzi richiamata, continua dicendo «Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Tutti coloro, quindi, che operano e opereranno nella verità del suo nome, manifesteranno che le proprie opere vengono da Dio e sono portatrici di gioia e di pace, di luce e di santità. Tutti coloro, non sono condannati dal Signore, ma da loro stessi, perché non credono e non vogliono credere nella sua potenza e onnipotenza, che tutto vede e tutto vince. Ci si può nascondere dagli uomini, ma non da Dio e dalla sua misericordiosa giustizia. Cari giovani, non abbiate vergogna di testimoniare il vostro amore nei confronti dell'amico e fratello Gesù, perché vi ama di un amore smisurato e profondo. Abbiate vergogna e repulsione nei confronti del peccato e di tutto ciò che può intossicare il vostro spirito. Chiedete al Signore la forza di resistere alle tentazioni per vincere le prove quotidiane e vi sentirete rispondere. Ce la puoi fare. Coraggio, sii forte e santo, credici fino in fondo. Ecco che allora sentirete nel cuore quella spinta santa che riempie e fortifica il vostro cuore. Uniti al cuore immacolato di Maria e innestati nell'amore di Gesù, lasciamoci riscaldare e plasmare dalla sua luce, che è salvezza, per far vincere e trionfare la vera fede che in Cristo Signore è. Dio Padre Onnipotente benedica noi tutti nel suo santo nome di Padre, di Figlio e di Spirito Santo.